Bene, come tutti sappiamo abbiamo appena celebrato la Solemnità dell'Annunciazione che è soltanto una grande festa mariana, ma è anche una festa molto cristiana, nel senso che è l'esaltazione del mistero dell'Incarnazione, quindi la contemplazione di questo dono straordinario che ci ha fatto il Signore diventare uno di noi e San Luigi Maria Grignano Amonforta che ci ha accompagnato anche nell'adorazione con le sue meravigliose infuocate preghiere e ha fatto proprio della riflessione su questa festa il fondamento di quella particolare, radicale forma di devozione alla Madonna che lui ha insegnato e predicato. Il testo di riferimento è ovviamente il trattato della vera devozione a Maria e vorrei rileggere, se vorrei leggo sempre molto volentieri, in questo giorno alcuni passaggi del capitolo terzo che si intitola Maria negli ultimi tempi della Chiesa. Già abbiamo visto durante la preghiera infuocata dei passaggi veramente sorprendenti, io non ho voluto certamente, quella era una preghiera, quindi interrompere per far notare e evidenziare alcune cose, però sicuramente rileggendola è facilmente reperibile anche nella mente online, non si fa fatica a comprendere come ci siano delle cose che sembrano scritte ieri, che sembrano proprio per i tempi attuali e a quanto pare tante delle cose che San Luigi ha compreso, visto, sono proprio per i nostri tempi. Anche in questo capitolo ci sono dei passaggi che se fossero stati scritti un mese fa non desterebbero stupore a nessuno, insomma, quindi è molto bello rileggerli, quindi rifacciamo una lettura, non di tutto, qualche passaggio, diciamo, dei più salienti e eventualmente qualche piccola parola di commento e lo usiamo come piccolo nutrimento spirituale anche per questa veglia che poi concluderemo con i misteri dolorosi, abbiamo fatto i misteri caudiosi a continuo maggio alla festa che abbiamo vissuto nell'annunciazione dei misteri dolorosi perché siamo già comunque nella quinta domenica di quaresima, tra l'altro comincia anche il tempo di passione. Spero che in molte chiese ci siano velate le statue e le immagini perché è un segno molto forte ma anche molto importante per farci entrare a piedi in quest'ultimo tempo di contemplazione più intima, ancora più intensa delle sofferenze sofferte dal Signore per la nostra salvezza. Bene, detto questo cominciamo la lettura. Scusate l'allergia, ma qui purtroppo ti giorni... D'altra tarota della vera devozione di San Luigi Maria Grignion da Montfort, capitolo terzo, Maria negli ultimi tempi del Chiesolo... Maria richiesta di San Luigi Maria Grignion da Montfort, capitolo terzo, Maria negli ultimi tempi dell'Azio di San Luigi Maria... chiesa. Per mezzo di Maria ebbe inizio la salvezza del mondo, ancora per mezzo di Maria deve avere il suo compimento. Nella prima venuta di Gesù Cristo a Maria quasi non comparve, perché gli uomini ancora poco istruiti e illuminati sulla persona di suo figlio non si allontanassero dalla verità, attaccandosi troppo sensibilmente e grossolanamente a lei. Così sarebbe certamente accaduto, se la fosse stata conosciuta fin da allora, a causa dell'incanto meraviglioso che Dio l'aveva conferito anche nell'aspetto esteriore. Ciò è così vero che San Dionigi l'aeropagita osserva che quando la vide l'avrebbe presa per una dea a motivo della sua delle segrete attrattive e dell'incomparabile bellezza che aveva se la fede, nella quale era ben fermo, non gli avesse insegnato più il contrario. Ma nella seconda venuta di Gesù Cristo Maria deve essere riconosciuta e rivelata dallo Spirito Santo per far conoscere e amare e servire Gesù Cristo per mezzo di lei. Non esistono più infatti i motivi che determinarono lo Spirito Santo a nascondere la sua sposa mentre ella viveva qua giù e da manifestarla ben poco dopo la predicazione del Vangelo. In questi ultimi tempi Dio vuole dunque rivelare e manifestare Maria, capolavoro, tenne le sue mani. Ci sono diversi motivi, io ne salto sei su sette e vado al settimo. Prima di andare al settimo faccio il primo pit stop perché quello che San Luigi scriveva poco prima del 1700, intorno al 1700 perché lui è nato nel 1674 ed è morto nel 1713 e l'abbiamo visto poi compiersi perché Maria è stata ampiamente rivelata in questi ultimi tempi. Gli ultimi duecento anni sono un seguito, come dire, un continuo incessante di apparizioni mariane, tantissime ce ne sono state. È difficile stare dietro anche a tutte quante. Molte di esse, molte, diverse di esse sono state riconosciute dalla Chiesa, altre purtroppo hanno avuto una sorte meno lieta, ma sono davvero tante. Quindi certamente oggi non si può dire che Maria non sia ampiamente conosciuta, che non sia dato a chi lo desidera ampia possibilità di conoscere bene chi è, quello che vuole, quello che pensa, eccetera. Perché tutto questo? L'ultimo motivo che San Luigi enumera e che adesso riprendo la citazione e leggo è questo. Deve essere lei terribile come schiera a vessili spiegati di fronte al diavolo e ai suoi seguaci, soprattutto in questi ultimi tempi, perché il diavolo, ben sapendo che gli resta poco tempo e più poco che mai, per trarre a rovino le anime, raddoppia ogni giorno i suoi sforzi, i suoi attacchi. Susciterà infatti quanto prima crudeli persecuzioni e tenderà terribili insidie ai serbi fedeli e ai figli veri di Maria, che egli vince più difficilmente degli altri. Soprattutto a queste ultime crudeli persecuzioni del diavolo, che andranno crescendo tutti i giorni fino al regno dell'Anticristo, deve riferirsi la prima e celebre profezia e maledizione pronunciata da Dio nel paradiso terrestre contro il serpente. E' bene spiegarla qui, a gloria della Vergine Santissima, il conforto dei suoi figli e la confusione del diavolo. Io porrò in imicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la tua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu ne insiderai il calcagno. E adesso attenzione a questo passaggio. Dio ha fatto e preparato una sola, ma irriconciliabile, in imicizia, che durerà, anzi crescerà sino alla fine. L'inimicizia tra Maria, sua degna madre, e il diavolo. Tra i figli e servi della Vergine Santa e i figli e seguaci di Lucifero. Pertanto, la nemica più terribile del diavolo, che Dio abbia mai creata, è Maria, sua Santa Madre. Faccio il secondo pit stop. Adesso siamo nei tempi veramente dello scontro finale. San Luigi ha parlato del Regno dell'Anticristo. Sappiamo benissimo che il Regno dell'Anticristo è biblicamente profetizzato. Per cui verrà sicuramente il Regno dell'Anticristo. Perché sappiamo bene, e sappiatelo bene, che parola profetica non mente. Sapete che l'Avocalisse conclude minacciando maledizioni a chiunque osa togliere o aggiungere una sola parola di quel misteriosissimo libro. Ecco. E se andate in giro su internet, dobbiamo essere sempre prudenti, ma ce ne sono una caterva di, come dire, spie, rivelazioni, profetzie, che lasciano intendere che il Regno dell'Anticristo non è lontano. Perché siamo certamente, in questo momento storico, nella fase del primo scontro violento tra le potenze delle tenebre e quelle buone. Io penso che, la luce è anche degli eventi che ogni giorno incalzano, non è molto difficile vedere certe cose. Non è molto difficile capirle. Perché faccio questo discorso? Perché per vincere queste battaglie, per passare questi tempi, è indispensabile nella fortuna di Maria. Ecco perché la Madonna Fatima disse consacratevi tutti al cuore immacolato, consacratevi tutti al mio cuore immacolato, il mio cuore immacolato sarà il nostro rifugio. Perché adesso il diavolo è furioso e noi non abbiamo nessuna speranza di poterla vincere con lui, se siamo da soli. neanche con l'aiuto della grazia ordinaria, perché adesso è troppo forte, in questo momento è troppo forte. Per cui c'è bisogno di una grande unione con Maria per poter pensare e sperare di combatterlo e vincerlo. Sul tema, su questo stesso tema di questa inimicizia, San Luigi prosegue. Dio non ha costituito soltanto una inimicizia, ma delle inimicizie. Attenzione, costituita da Dio questa qui è. L'una tra Maria e il demonio, ma l'altra tra la stirpe della Vergine Santa e la stirpe del demonio. In altre parole, Dio ha posto inimicizie, antipatie e odi segreti tra i veri figli e serbi della Vergine Santa e i figli e schiavi del demonio. Non si amano tra di loro, non c'è intesa tra di loro. I figli di Beliano, i figli, gli schiavi di Satana, gli amici del mondo, tanto la stessa cosa, hanno sempre perseguitato e continueranno più che mai a perseguitare quelli e quelle che appartengono alla Santissima Vergine. Come un giorno Caino ed Esaù, figure dellebubi, perseguitarono i loro rispettivi fratelli, Abele e Giacobbe, figure dei predestinati. Ma l'umile Maria riporterà sempre vittoria su quel superbo e vittoria grande che riuscirà perfino a schiacciargli il capo dove risiede il suo orgoglio. Ne svelerà sempre la malizia serpentina. Ne sventerà le trame infernali. Ne manderà in fumo tutti i diabolici disegni e difenderà fino alla fine dei tempi i suoi servi da quelle unghie spietate. Ma, e qui attenzione di nuovo, il potere di Maria su tutti i demoni risplenderà in modo particolare negli ultimi tempi. questi, attenzione che gli ultimi tempi non sono la fine dei tempi o la fine del mondo. Quando Satana insiderà il suo calcagno, cioè i suoi poveri schiavi e umili figli. Dio vuole che la sua Santa Madre sia conosciuta, amata e onorata ora, in questi tempi, più che mai. allora vedranno chiaramente questa bella stella del mare e guidata da lei i suoi figli sperimenteranno le sue dolcezze e bontà materne, l'ameranno come figli di predilezione, giungeranno in porto malgrado le tempeste virati, eccetera. Oh, ma chi saranno questi serbi schiavi e figli di Maria? Questi apostoli degli ultimi tempi, come li chiama San Luigi. Saranno fuoco ardente e ministri del Signore che metteranno dappertutto il fuoco del Divino Amore. Saranno frecce acute nella mano potente di Maria per trafiggere i suoi nemici come frecce in mano a un eroe. Saranno figli di Levi, molto purificati dal fuoco di grandi tribolazioni e molto uniti a Dio. Porteranno nel cuore l'oro dell'amore, l'incenso della preghiera nello spirito e la mirra della mortificazione nel corpo. In ogni luogo saranno il buon profumo di Gesù Cristo per i poveri piccoli, mentre saranno odore di morte per i grandi, i ricchi e i superbi mondani. Saranno nubi tonanti e vaganti nello spazio al minimo soffio dello Spirito Santo, senza attaccarsi a nulla, né stupirsi di nulla, né mettersi in pena per nulla. Spanderanno la pioggia della parola di Dio della vita eterna, tuoneranno contro il peccato, grideranno contro il mondo, colpiranno il diavolo e i suoi seguaci. Con la spada due tagli della parola di Dio trafiggeranno per la vita o per la morte tutti coloro ai quali saranno inviati da parte dell'Altissimo. saranno veri apostoli degli ultimi tempi. Ad essi il Signore degli eserciti darà la parola e la forza per operare meraviglie e riportare spoglie gloriose sui Suoi nemici. Nei luoghi dove hanno predicato lasceranno soltanto l'oro della carità che è il compimento della legge e saranno veri discepoli di Cristo. Seguiranno le orme della sua povertà, umiltà e disprezzo del mondo e carità. Insegneranno la via stretta di Dio nella pura verità secondo il Vangelo non secondo i canoni del mondo senza preoccupazioni e senza guardare in faccia a nessuno e senza risparmiare seguire o temere alcun mortale per potente che sia. Avranno in bocca la spada a due tagli della parola di Dio e porteranno sulle spalle lo stendardo insanguinato della croce il crocifisso nella mano destra la corona nella sinistra i sacri nomi di Gesù e di Maria sul cuore la modestia e la mortificazione di Gesù Cristo in tutta la loro condotta. Ecco i grandi uomini che verranno e che Maria formerà su ordine dell'Altissimo per estendere il suo dominio sopra quello degli empi idolati e maomettani. Ma quando e come avverrà tutto questo Dio solo lo sa compito nostro è tacere pregare sospirare e attendere. Questo è un passaggio tra i più belli del trattato della vera devoluzione e a mio avviso è estremamente attuale. Gli apostoli degli ultimi tempi io sono convintissimo che in giro già ci stanno e quelli che fanno parte dell'ordine sacro tra gli apostoli degli ultimi tempi sicuramente dovranno essere le guide di quell'esercito che si mette di traverso nei confronti dello strapotere che adesso ha il diavolo che ha occupato tutto e dappertutto. Ci deve essere qualcuno che si oppone a questo. La vittoria finale sarà certamente di Dio attraverso Maria. Noi siamo sotto la promessa di Fatima. Alla fine il mio cuore immacolato trionfera ma come San Luigi spiega benissimo nel trattato il trionfo del cuore immacolato di Maria non dobbiamo attendercelo semplicemente come un miracolo che scende dal cielo. No. Perché Maria trionfa e schiaccia la testa al serpente attraverso il suo calcagno e il suo calcagno sono i suoi servi veri umili e devoti di cui sono scritti i tratti caratteristici. Ecco quindi dobbiamo pregare tanto perché questa realtà che sicuramente già sta in giro perché sicuramente adesso siamo in un tempo in cui ogni giorno di più sembra crescere ancora cioè non si vede il fondo del male ripeto basta andare in giro su Twitter leggere qualche tweet se non vuole vedere i telegiornali e vedere le aberrazioni che si vedono ormai ogni giorno dove altro dobbiamo arrivare che altro ci sta ecco e purtroppo brutte notizie cominciano ad arrivare in maniera ormai pubblica e ufficiale anche da ambienti dove non dovrebbero arrivare certe notizie il che evidentemente io lo dico allo sacerdote getta nella preoccupazione nella confusione a volte anche nella paura nello smarrimento non poche anime di fedeli che sono poverine fragili scandalizzate deboli dinanzi a certe cose ecco sono scenari veramente particolari ecco c'è bisogno di persone formate forti alla scuola di Maria perché non è assolutamente facile districarsi in questa giungla ecco e agire secondo la volontà di Dio non uscendo da essa e al tempo stesso perseguendo sempre dovunque comunque la realtà al Vangelo abbiamo sentito la verità e a tutto quello che caratterizza gli apostoli degli ultimi tempi cioè i veri servi e devoti di Maria abbiamo festeggiato questo giorno tra l'altro oggi il 25 di marzo mi piace ricordare che l'anniversario di alcune apparizioni molto belle le avvenute in Italia molto poche conosciute che sono quelle avvenute a Schio a Renato Maron dove la Madonna veramente ha dispiegato uno dei suoi titoli più belli più veri si chiama la regina dell'amore veramente forse il titolo che più di ogni altro conviene e si addice all'amato nonno quindi procuriamo per quanto possibile di crescere sempre di più nella vita di nonno con lei perché adesso ne abbiamo oltremodo bisogno non possiamo e non dobbiamo rimanere travolti dalla marea montante del male né cadere in qualche tranello in qualche astuzia infernale di Satana ecco che anche con buone modifazioni intenzioni ci faccia compiere dei gesti non consoli come si chiamano inconsulti ecco che Dio non approva che non vuole e al tempo stesso rimanere fedeli alla verità saldi nella fede e sempre custodendo la pace nel cuore certi che la vittoria è già decisa che sarà un pochino da soffrire certamente da tribolare ma chi si colloca dalla parte giusta cioè con Maria e con Gesù sicuramente è destinato a salire sul carro dei vincitori